Benvenuti su Telepace, siamo con Lorenzo Fazzini, neo nominato capo ufficio del Dicastero delle Comunicazioni, responsabile dell'editoriale della libreria editrice vaticana. Benvenuto Lorenzo, sei una vecchia conoscenza di Telepace, raccontaci un po' della tua esperienza giornalistica, come è nata, come si è solidificata negli anni. Ma così il mondo dei giornali, delle notizie è sempre stato un po' di casa in famiglia, sebbene papà fosse artigiano e mamma casalinga, madre di nove figli, quindi il lavoro era già abbastanza in casa. Papà, ripeto, era artigiano ma aveva sempre nei momenti liberi il giornale in mano, leggeva molto, molta stampa, molta stampa anche cattolica, si interessava ai libri, eccetera, e è un po' venuto naturale durante gli anni dell'università di lettere iniziare a collaborare con alcune testate giornalistiche, anche ad esempio Telepace, per alcuni anni ho curato un giorno alla settimana un'edizione del telegiornale e poi maturata scrivendo per verona fedele, per avvenire, per testate come Jesus, Messaggero di Sant'Antonio, eccetera, fino a quando dopo l'università ho, come dire, ho iniziato il mio primo lavoro in pianta stabile andando a Roma a lavorare all'agenzia stampa Asia News, che è un'agenzia stampa in quattro lingue dedicata completamente all'Asia, il tema della presenza dei cristiani in Asia, ma più in generale del continente asiatico, e lì mi sono interessato di diritti umani, libertà religiosa, persecuzioni anticristiane, economia, Islam, e lì mi si è aperto un mondo che poi ha proseguito, come dire, come interesse, quando dopo alcune esperienze, come ad esempio Avvenire, oppure una casa editrice di Torino, sono approdato nel 2012 a dirigere l'editrice missionaria italiana, che è stata un po' la mia casa, professionalmente parlando, per nove anni, prima per cinque anni a Bologna e poi per quattro anni quando abbiamo spostato la sede a Verona, in cui ho curato questa casa editrice quasi cinquantennale, perché nel 2023 compie cinquant'anni di vita e lì mi sono prodigato, diciamo, al meglio di quello che ho potuto fare nel cercare di esplicitare il contenuto missionario nelle sue pluralità forme attraverso la modalità del libro. Allora, hai collaborato anche con Il Corriere, sei autore televisivo, attualmente curi la rubrica Su Avvenire, Dio tra le righe. Ti faccio una domanda proprio sull'EMI, editrice missionaria. Il 13 marzo 2013 viene eletto Papa Bergoglio, Papa Francesco. Il 21 marzo 2013 esce, guarire dalla corruzione proprio di Bergoglio. Quindi dopo otto giorni dall'elezione eravate già pronti con uno scritto del Papa eletto. Sì, come dire, una delle soddisfazioni più grandi che mi è mai capitato di vivere. Io ricordo benissimo quel giorno, l'11 febbraio 2013, quando intorno a mezzogiorno si diffuse la notizia che Benedetto XVI aveva annunciato le dimissioni. Io ero nel mio ufficio e tra colleghi ci si comunicava anche al telefono. Avevo una persona con cui stavo parlando e mi suona il telefono e rispondo dicendo che non posso, sono impegnato. E la collega mi dice no, no, ascolta qua, il Papa si dimette. Mi sono subito connesso a internet, ho aperto la pagina e ho visto questa notizia. Casualmente o provvidenzialmente la persona che era a colloquio con me era il nostro tipografo e teniamo subito una riunione urgente dicendo cosa facciamo. Noi avevamo in lavorazione editoriale proprio due libri di due cardinali. Uno è il cardinale Schomborn di Vienna, Christoph Schomborn, domenicano, e uno è il cardinale di Manila che era appena stato nominato cardinale, Luis Antonio Tagle. Quindi per prima cosa decidemmo di accelerare la produzione di questi libri e pubblicarli quanto prima. Ricordo bene che tre giorni dopo le dimissioni di Ratzinger uscirono in due giorni consecutivi sul Corriere della sera due pagine intere dedicati a questi libri che erano ormai imminenti nel giro di dieci giorni avremmo pubblicati. In quella riunione io dissi una frase che a posteriori sembra profetica, lì per lì sembrava una grande attestazione di superbia e io dissi noi faremo il primo libro del Papa nuovo. Tutti mi guardarono dicendo ma tu sei fuori di testa. Io dico no, facciamo una scheda promozionale in cui mettiamo il nuovo Papa in 80 pagine, un po' facendo il verso al giro del mondo in 80 giorni. La mandai naturalmente con la copertina bianca, senza autore, senza niente, ma io avevo in testa l'idea che appena è uscito il libro, appena è uscito il Papa nuovo, noi avremmo fatto un libretto sul nuovo Papa, chiunque esso fosse. Quindi la macchina era già pronta. La macchina era già pronta, avevo scaldato alcuni scrittori, alcuni possibili scrittori e tra l'altro nei giorni precedenti il conclave organizziamo una serie di incontri per presentare questi due libri del Cardinal Schombra e del Cabernet Altagli anche a livello promozionale, facciamo a Mantua, a Vicenza, a Verona, a Trento, a Milano, in cui presentammo questi libri di possibili nuovi Papa. Era il nostro mestiere di far conoscere i nostri libri, sfruttamo, come dire, l'imminente conclave. Il 13 marzo ero appunto a Trento a presentare questi libri perché naturalmente noi organizziamo queste date senza sapere le date precise del conclave. Ricordo che nel momento in cui ci fu la fumata bianca, io stavo parlando in diretta su Zapping, la trasmissione di Radio 2, ero sotto il Duomo di Trento, erano circa le 8 e qualcosa, le 20 e qualcosa, e mi precipitai in stazione a Trento, apri il computer per seguire il momento in cui si aprì la porta della Basilica di San Pietro, e aspettare il nuovo Pontefice. L'annuncio di Bergoglio mi colse, confesso, totalmente impreparato, nel senso che lo conoscevo di nome. Avevo avuto, tra l'altro, l'anno prima a Francoforte tra le mani un suo libro, ma ahimè, quando avevo studiato un attimo il personaggio, avevo visto che aveva 75 anni, quindi pubblicare il libro di un cardinale di Buenos Aires, quando oramai la scadenza del suo mandato, non era, come dire, editorialmente molto intelligente. Per cui soprassedemo. Lì per lì decisi al volo di sentire un'amica giornalista che si occupava di chiesa sudamericana e dirgli questa notte scrivi 80 pagine sul nuovo Papa. Mi disse di sì, 5 minuti dopo mi disse no, questa sera alle 1 devo prendere un aereo per l'Argentina, quindi non posso. Tornai a casa, appunto in treno, a casa c'era mia moglie, insomma guardammo tutti gli speciali possibili, immaginabili. Verso le due e mezza di notte mi accorsi che su internet c'era una serie di interviste a Papa Francesco, anzi allora a Cardinal Bergoglio, realizzate da un giornalista che conoscevo di nome, molto bravo, che non conoscevo di persona, Gianni Valente, giornalista di 30 giorni, una rivista che aveva chiuso le pubblicazioni ma il cui sito era ancora aperto. Studiai velocemente le interviste, capì che insomma si poteva raccogliere un po' in un libretto e insomma andai a letto, erano le 3 e mezza, 4 e notte, non ricordo. Alla mattina alle 8 a Bologna, sotto la pioggia, c'era sciopero dei mezzi quel giorno, mi ricordo molto bene, telefonai, riuscii a parlare con Gianni Valente, l'avevo cercato alle 3 e le 4 di notte ma evidentemente era impegnato in altro e gli dissi chi ero e gli dissi guarda io avrei l'intenzione di raccogliere le interviste in un volume, in un libretto. Lui lo buon romano mi rispose, ah e pensi che possa interessare a qualcuno, gli ho detto stai tranquillo che sono sicuro che interessa, infatti il libro venne tradotto in 16 lingue. E velocemente facciamo un accordo tra gentili uomini dicendo guarda pubblichiamo poi ti diamo la percentuale sui diritti d'autore eccetera però dobbiamo farlo subito. Morale, il giorno dopo alle 2 eravamo già in tipografia per stamparlo e lunedì ricevetti le prime copie del libro stampato in via della conciliazione. Il libro a cui facevi riferimento sono invece un libro insieme a un altro testo, Guarire della corruzione e umiltà la strada verso Dio, che sono proprio firmati dall'allora Cardinal Bergoglio. Quelli li acquistiamo al buio senza poterli leggere, senza leggere i pdf in Argentina, quindi ci li mandarono dall'Argentina, li traducemo letteralmente in una notte perché io svegliai alle 6 di mattina due amiche a Barcellona per tradurre un testo, l'altro testo lo tradusse il nostro direttore editoriale Pier Maria Mazzola. Morale, il 20 marzo su 5 giornali italiani uscirono le anticipazioni di questi due testi, il 22 presentammo i due libri a Civiltà Cattolica con Don Luigi Ciotti, siccome appunto un titolo a cui facevi riferimento parlava di corruzione, cercai Don Luigi e me lo passarono, lasciai detta la segretaria, guarda che Papa lo cerca, dopo tre minuti mi telefonarono e gli disse Don Luigi vorremmo presentare questo libro se vuoi venire, gli disse cancello tutti gli impegni e vengo a Roma. Scusa, ti interrompo un attimo, questo ci fa capire che tu eri lì da un anno e sei riuscito a dare una svolta a questa piccola, diciamo, casa editrice storica comunque, dando, come dire, rinnovando un po' il modo di pubblicare, stando sul pezzo da giornalista. Sì, diciamo che io avevo la fortuna che Emi era un marchio già molto conosciuto, appunto ad esempio tramite la figura di padre Zanotelli che è un missionario che conoscono tutti, sia dentro la chiesa sia fuori della chiesa. Quello che io ho cercato di portare, un po' appunto con il tempo, la velocità giornalistica o la cura per il confronto con la modernità era, io uso questa immagine, portare fuori i temi e la casa editrice dal circuito stretto del mondo missionario, che a volte diventa non solo un ovile un po' chiuso, ma anche rischia di essere un ghetto. Per cui, ad esempio, questi titoli di Papa Francesco interessarono l'opinione pubblica immediatamente e fumo appunto i primi a pubblicare Papa Francesco. Ricordo che sui giornali c'era la pubblicità del libro di Rizzoli con tanto di strillo, il primo libro di Papa Francesco, noi eravamo in libreria già da una settimana. E questa è una bella soddisfazione sicuramente. Che impronta pensi di dare adesso alla libreria editrice vaticana? Cioè hai sulle spalle, diciamo, un'editrice storica che pubblica poi le encicliche del Papa? Ma più che impronta, diciamo, in che solco mi devo porre e cosa mi è stato chiesto. Sicuramente mi pongo sulla scia di una storia fortissima, perché la casa editrice proprio fra due anni compierà cent'anni, nata nel 1923, e poi fa parte di quel variegato mondo comunicativo della Santa Sede che Papa Francesco ha cercato di conglobare tutto insieme dentro e di Castello della Comunicazione, dando un'impronta molto forte al lavoro di squadra, al lavoro di equip e all'interazione fra i vari aspetti, la carta, il web, la televisione, il giornale, l'audio, la radio, eccetera. Quello che mi è stato chiesto, si può riassumere una parola, perché mi è stata chiesta più volte, e della parola creatività, perché è una cosa che ha chiesto Papa Francesco, è una cosa che hanno chiesto i miei superiori, e è un po' un tratto che un po' mi ha caratterizzato in casa editrice Emi, ed è anche un tratto un po' che sento mio, sento mio la creatività di poter, da una parte, cercare nuove strade, restando ancorato alla tradizione, di cercare nuovi pubblici, restando fedeli al proprio mandato, quindi come dire, io uso questa immagine usando un packaging nuovo per un'anima che resta sempre quella. Allora, va detto che per Emi tu non solo hai curato la pubblicazione di tanti libri, ma anche hai realizzato tanti eventi, quindi in questo senso, scommettendo sulla creatività, vanno sul sicuro, mi viene da dire. Ma sicuramente Emi è stata una stagione molto ricca, molto bella, perché l'idea appunto che mi ha guidato in questi anni è stata quella di portare fuori, quindi portare fuori voleva dire, non inventandomelo da me, ma anche, come dire, sanamente copiando formule che ci sono in giro per l'Italia e nel mondo, far sì che una casa editrice non sia più solo una realtà culturale che prende, pubblica un libro e lo mette in libreria e poi alza gli occhi al cielo sperando che un possibile lettore entri in libreria. Dici qualche numero. Allora, qualche numero, poi naturalmente c'è AP e post-P, cioè antepandemia, post-pandemia. Allora, antepandemia nel 2019 abbiamo realizzato 250 eventi a marchio Emi, che voleva dire o presentazione di libri, tour degli autori, consulenze, spettacoli teatrali, mostre, oppure anche solo semplicemente un evento in cui eravamo presenti con un nostro cosiddetto banco di libri. Abbiamo realizzato sei mostri, uno spettacolo teatrale, durante la mia direzione ho pubblicato circa 400-500 libri e tutti con l'idea che un libro va curato nei minimi dettagli. Anche a livello comunicativo abbiamo stabilito dei rapporti molto forti con le principali testate giornalistiche che si sono accorte che c'è una casa editrice molto piccola, perché tanto per non fare nomi rispetto a altre case editrici noi siamo un decimo, noi eravamo un decimo a livello di fatturato, però proprio in questi giorni stiamo dialogando con la lettura del Corriere della Sera per una grande anticipazione di un libro di un gesuita francese, di un intellettuale senegalese, sull'economia post-covid e sono tematiche che se presentate in una maniera giusta e come dire in un vestito particolare colgono molto l'interesse. Cosa può portare secondo te un laico sposato, quattro figli, classe 1978, quindi 43 anni, in un ambiente così strutturato come il Vaticano? Io porto un po' la mia esperienza, l'esperienza di chi vive sulla soglia tra il mondo della Chiesa e il mondo quotidiano, ferriale, il mondo di tutti, il mondo della cultura generalista, il mondo dei giornali. Una persona che sta un po' sulla soglia perché vive la vita normale delle persone per cui capisce bene quali sono le... cioè capisce bene, vive sulla sua pelle anche tramite i colloqui, gli incontri, le feste, le cene con gli amici, eccetera. Qual è il sentire comune? Dall'altra forse può, come dire, coniugare questo sentire comune con il messaggio che si deve portare e quindi può trovare delle strade, dei pertugi con cui far trasmettere il messaggio cristiano, il messaggio evangelico attraverso delle sensibilità. Per esempio, durante la mia direzione di EMI avevo capito, avevo intuito che questo poteva avvenire attraverso la scelta del racconto di grandi testimoni della fede del nostro tempo che vivono situazioni limite. Questo mi aveva aiutato a teorizzarlo un'amica che lavorava in una grande casa editrice di Mondadori, in cui mi diceva oggi la gente cerca delle storie limite perché attraverso delle storie limite rilegge la propria esperienza dicendo se quello ce l'ha fatta o quella ce l'ha fatta, allora anch'io che vivo i problemi dello scontro con il vicino, dell'antipatia con la collega, della depressione, del figlio che non mi ubbidisce, della figlia che si mette al piercing, eccetera, posso rivedere la mia esperienza e posso farcela anch'io. Ecco, questa è stata una delle molle che mi ha spinta insieme al desiderio di far conoscere alcune grandi testimonianze di fede. Questa può essere una carta vincente per l'editoria cattolica per parlare a tutto il mondo, quindi a più interlocutori. Sì, io penso di sì, anche perché oggi colpiscono tantissimo, l'abbiamo visto anche in questi giorni con l'Afghanistan, basta un'immagine di un console che prende in braccio una bambina, però dietro quel gesto lì, cioè uno arriva a fare quel gesto lì anche di rischio personale perché magari ha una storia fortissima alle spalle di dedizione, di coraggio, eccetera, eccetera. Raccontare quella storia, per esempio, può essere, noi di recente abbiamo raccontato in un libro la storia della suora Anne Rose che si è messa in ginocchio in Birmania, in Myanmar, davanti ai soldati. Ecco, quell'immagine lì che è stata forse una delle immagini più viste durante quest'anno, può essere accompagnata dalla storia di chi è quella persona, di cosa pensa, di cosa ha vissuto, di cosa l'ha portata a fare quel gesto. Tu hai avuto la fortuna di avere una famiglia molto credente che ha trasmesso dei valori forti, tu sei di Lecco, della provincia di Lecco, adesso vivi a Verona da tanto tempo, e come senti la necessità di testimoniare questa fede? Ma soprattutto con due atteggiamenti che penso siano compresenti, cioè debbano essere compresenti da una parte, una forte convenzione senza eccedere in atteggiamenti di superbia, cioè di pensare di essere migliori degli altri, dall'altra senza avere, per esempio culturalmente, dei sensi di inferiorità con nessuno. Questo però, per esempio nel lavoro, io l'ho visto moltissimo, necessita di un trend, cioè di un livello di professionalità molto molto alto, che per me ha voluto dire, per esempio, non guardare l'orologio quando si lavora, so che può sembrare una cosa, come dire, che mal si concilia con la vita di una famiglia, però vuol dire che le cose vanno fatte molto bene, vanno seguite fin del minimo i dettagli. I libri non devono avere refusi, le copertine devono essere brillanti, i testi devono essere accattivanti, quindi non serve farli una volta, bisogna correggere, i miei grafici lo sanno, li faccio correggere le copertine cinque volte e mi dicono a un certo punto, non ne possiamo più, io dico no, c'è ancora una parola da migliorare perché la si può rendere più accattivante. Ecco, questa ricerca del dettaglio e questa continua miglioria per me sono un elemento anche di testimonianza cristiana che vuol dire il messaggio del Vangelo non va buttato lì, ecco, va curato nei minimi dettagli e se è curato il minimo i dettagli risplende anche meglio, se invece viene, come dire, così buttato come viene sicuramente perde di valore. Grazie a Lorenzo Fazzini, lo ricordo il nuovo direttore editoriale della libreria editrice vaticana e soprattutto buon lavoro. Grazie, grazie a voi anche. E grazie a tutti voi di Telepace per averci seguiti.